Adesso, l'antriga abbiamo l'altra cucchiaia, è la nostra prima notte tagliata. Allora, agaveremo, intorno a 12 ore, la messa tagliata, i canti tagliati, il prezzo di Clermir Bonetti, che prega, e dopo anche il filo tagliato. Se altri, dopo, vogliono portare il vostro gruppo insieme, cercate di parlare con lei. E come ha detto lei, questa è la nostra prima presentazione, avevamo fatto due o tre insegni, e per quello siamo in cui c'è. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.